capitolo 5 la casa sull'abisso questa casa come ho detto è circondata da un vastissimo terreno e da giardini ormai incolti e selvaggi dietro di essa a circa 300 metri di distanza si apre un burrone buio e profondo che i contadini chiamano abisso in fondo a quel burrone scorre un pigro torrente coperto dalla vegetazione tanto che dall'alto è quasi invisibile spiegherò per inciso che questo torrente ha una sorgente sotterranea perché emerge improvvisamente all'estremità occidentale del crepaccio e sparisce altrettanto improvvisamente sotto il dirupo che limita il burrone a oriente fu qualche mese dopo la mia visione se era una visione della grande pianura che l'abisso attirò in modo particolare la mia attenzione passeggiavo un giorno lungo il ciglio meridionale del burrone quando improvvisamente alcuni frammenti di roccia scistosa si staccarono dalla parete immediatamente sotto di me e precipitarono con un rotolio cupo tra gli arbusti odì il tonfo giù nel torrente poi silenzio non avrei fatto gran caso all'incidente se pepper non avesse cominciato ad abbagliare freneticamente senza calmarsi neppure quando glielo ordinai il che è molto insolito da parte sua intui che nell'abisso doveva esserci qualcuno o qualcosa e corsi a casa a prendere un bastone quando tornai pepper aveva smesso di abbagliare fiutava inquieto il terreno ringhiando intorno al crepaccio lo chiamai con un fischio e cominciai a scendere cautamente la parete non era eccessivamente scoscesa in quel punto ma impiegamo ugualmente un certo tempo e parecchia fatica per arrivare sani e salvi in fondo qui pepper ed io cominciammo ad esplorare le rive del torrente l'oscurità era fitta per via della vegetazione sovrastante e io procedevo con cautela sempre guardandomi intorno con il bastone pronto ora pepper era calmo e non si scostava da me ispezionammo tutta una riva del torrente senza udire né vedere nulla poi saltammo sull'altra riva e tornammo indietro lungo di essa aprendoci un barco tra gli arbusti avevamo già percorso quasi metà della strada quando udì di nuovo un rumore di pietre che cadevano dall'altra parte quella che avevamo appena ispezionato un grosso macigno precipitò fragorosamente tra le cime degli alberi cadde sulla riva e rimbalzò nel torrente spruzzandoci addosso un gran getto d'acqua pepper lanciò un altro latrato poi si fermò drizzando le orecchie anch'io mi fermai un secondo dopo un grido stridulo tra umano e bestiale risuonò tra gli alberi pressappoco dal centro della scarpata a sud dal fondo dell'abisso gli fece eco un grido simile allora pepper latrò irosamente e attraversato d'un balzo il torrente sparì tra i cespugli immediatamente dopo udì i suoi latrati giungere più sordi e frequenti intercalati da un brobottio confuso poi questo cessò e nel silenzio si alzò un urlo quasi umano di dolore quasi nel medesimo istante pepper lanciò un lungo guaito vidi cespugli agitarsi violentemente poi il cane uscì di corsa con la coda bassa guardando indietro quando si avvicinò vidi che sanguinava da una ferita sul fianco una ferita che pareva prodotta da un grosso artiglio e che gli aveva quasi messo a nudo le costole vedendo pepper così ridotto fui preso da un cieco furore agitando il bastone balzai dall'altro lato del torrente e mi addentrai nei cespugli dai quali avevo visto uscire il cane mentre mi aprivo la strada tra gli arbusti mi parve di udire un respiro ansimante un istante dopo sbucai in una piccola radura appena in tempo per vedere qualcosa una forma livida biancastra sparire tra i cespugli di fronte con un grido corsi da quella parte ma penché battessi e frugassi tra i cespugli con il bastone non vidi ne udì più nulla e allora tornai da pepper lavai bene la ferita nel fiume e gli avvolsi un fazzoletto umido intorno ai fianchi poi risalimmo la scarpata e tornammo alla luce del giorno a casa mia sorella mi chiese cosa fosse accaduto a pepper e le dissi che si era zuffato con uno dei gatti selvatici che infestavano la regione giudicai opportuno non dirle ciò che era realmente accaduto in verità io stesso non lo sapevo bene ma ero ben certo comunque che l'essere che avevo visto fuggire tra i cespugli non era un gatto selvatico era troppo grosso e per quanto avevo avuto modo di notare aveva la pelle come quella dei suini ma di un bianco spento malsano e poi mi era parso che corresse eretto o quasi eretto sulle zampe posteriori con un'andatura abbastanza simile a quella di un essere umano l'incidente era accaduto al mattino dopo pranzo mentre leggevo nel mio studio alzai per caso gli occhi dal libro e vidi qualcosa che spiava dentro dal davanzale della finestra qualcosa da cui sporgevano soltanto gli occhi e le orecchie era dunque un maiale esclamai mi alzai in piedi e lo vidi meglio ma non era un maiale dio solo sa cosa fosse mi ricordava vagamente l'essere orrendo che avevo visto nella grande pianura aveva bocca e mascelle grottescamente umane mancava quasi di mento il naso si protendeva in un grugno ed era questo insieme agli occhi piccoli alle strane orecchie che gli conferiva quel fantastico aspetto di suino la fronte era bassissima e tutta la faccia era di un biancore schifoso per un minuto forse rimasi immobile a guardare quell'essere con una crescente sensazione di nausea e di paura dalla sua bocca usciva un borbottio ininterrotto senza senso e una volta un grugnito semisuino ma erano soprattutto gli occhi che mi affascinavano avevano a volte lampi di intelligenza orribilmente umana e si staccavano continuamente dal mio viso per posarsi su qualche oggetto della stanza come se il mio sguardo li turbasse mi pareva si reggesse al davanzale della finestra con due mani ad artiglio a differenza del viso queste mani erano di un bruno argilla e somigliavano vagamente a quelle umane in quanto avevano quattro dita e un pollice unite però da una membrana fino alla prima articolazione come quelle dei palmipedi avevano anche le unghie ma così lunghe e robuste da ricordare gli artigli di un'aquila come ho detto avevo paura ma una paura quasi astratta forse spiegherò meglio ciò che sentivo dicendo che il mio era piuttosto un senso di sgomenta repulsione quale si può immaginare di provare di fronte a forme di esistenza non solo insospettate ma sovrumanamente immonde non posso dire di aver colto al momento tutti questi particolari della creatura bestiale forse affiorarono in me in seguito come scolpiti nella mia mente mentre la guardavo immaginavo più che vedere e i particolari concreti mi si chiarirono più tardi fissai la creatura per qualche minuto poi ripreso il controllo sui miei nervi vinsi il senso di paura che mi invadeva e feci un passo verso la finestra subito l'essere si calò giù dal davanzale e sparì corsi alla porta e guardai rapidamente intorno ma vedi soltanto i cespugli e l'intrico degli alberi tornai in casa di corsa e presi il fucile deciso a compiere un'ispezione in giardino uscendo mi chiedevo se quella creatura fosse davvero la stessa che avevo intravisto al mattino ma non mi parve che potesse esserci dubbio iniziai sistematicamente le mie ricerche e al principio mi mossi con prudenza pensando alla ferita di pepper ma dopo aver esplorato per ore i vasti e solitari giardini senza scorgere alcun segno di vita divenni più audace mi pareva quasi di desiderare che la creatura mi attaccasse tutto era preferibile a quel silenzio e alla sensazione continua che fosse in agguato dietro ogni cespuglio più tardi divenni sprezzante del pericolo al punto di buttarmi proprio nel folto dei cespugli frugando intorno con la canna del fucile ogni tanto gridavo ma soltanto l'eco mi rispondeva pensavo così di spaventare o smuovere la creatura inducendola a mostrarsi invece riuscì soltanto a richiamare l'attenzione di mia sorella che uscì a vedere che cosa fosse successo le dissi che avevo visto il gatto selvatico che aveva ferito pepper e che stavo cercando di snidarlo dai cespugli non mi sembrò del tutto convinta e rientrò in casa con un'espressione dubbiosa mi domandai se poteva aver visto o intuito qualcosa per tutto il resto del pomeriggio proseguì ansiosamente le mie ricerche sapevo che l'idea che quella creatura bestiale fosse acquattata tra gli alberi mi avrebbe impedito di dormire tuttavia scese la sera senza che avessi trovato nulla stavo tornando a casa dunque quando udì alla mia destra tra i cespugli un lieve fruscio mi girai di scatto presi in fretta la mira e sparai in quella direzione immediatamente udì qualcosa fuggire tra i cespugli si muoveva velocissima e un minuto dopo non udì più nulla dopo pochi passi rinunciai all'inseguimento sapendo che ormai era del tutto inutile nell'oscurità che stava rapidamente calando rientrai quella sera quando mia sorella andò a coricarsi ispezionai le porte e le finestre al pian terreno assicurandomi che fossero tutte ben chiuse questa precauzione era superflua per le finestre perché tutte quelle al piano inferiore sono munite di solide sbarre ma per le porte che sono cinque si rivelò utilissima perché nessuna era chiusa ben sprangate le porte andai nel mio studio ma quella sera la vasta stanza piena di echi mi opprimeva cercai per un poco di leggere ma fu inutile presi dunque il libro e scesi a leggere in cucina dove ardeva un gran fuoco leggevo forse da un paio d'ore quando di un rumore abbassai il libro e ascoltai attentamente era un fruscio come di qualcosa che sfregasse anna spasse contro la porta di dietro poi la porta scricchiolò spinta con forza in quei brevi istanti un indicibile insospettato terrore si impossessò di me mi tremavano le mani mi sentivo ricoprire di sudore freddo ed ero scosso da brividi violenti a poco a poco mi calmai fuori i movimenti furtivi erano cessati per un'ora rimasi immobile in ascolto d'improvviso il senso d'angoscia mi riprese mi sentivo come deve sentirsi un animale sotto lo sguardo di un serpente non si udiva alcun rumore adesso poi gradualmente quasi insensibilmente mi giunse all'orecchio qualcosa un gorgoglio che si precisò in un vociare sommesso rapidamente si fece più forte e divenne un coro attutito e orrendo di grida bestiali sembrava uscire dalle viscere della terra o di un tonfo e mi accorsi di aver lasciato cadere il mio libro rimase immobile e così mi sorprese la pallida aurora filtrando tra le sbarre delle alte finestre con la luce del giorno il senso di torpore la paura svanirono e ripresi un certo dominio delle mie facoltà raccolsi il libro e in punta di piedi mi accostai alla porta e tesi l'orecchio nessun rumore turbava il gelido silenzio rimasi qualche minuto in ascolto poi molto adagio e cautamente tirai il chiavistello e aperta la porta guardai fuori la mia prudenza era inutile non si scorgeva che il tetro groviglio d'alberi e cespugli che si stendeva fino ai campi lontani chiusi la porta con un brivido e mi avviai silenziosamente verso la mia stanza